Il resto lo vedremo stavola facendo. Adesso ci sono tanti tasselli che devono essere ricomposti. Abbiamo assunto l'incarico stamattina, quindi dateci anche modo e tempo di entrare nella vicenda, che comunque è complessa, riguarda la vita di una persona e la vita di una famiglia. In questo momento l'interesse loro è quello di vivere il più serenamente possibile, anche se è una situazione surreale, il lutto per quanto riguarda della signora e della madre. Ci sono dentro degli animali che comunque sono degli affetti di casa, anche loro hanno la loro importanza e quindi queste sono le priorità del momento. Poi da oggi pomeriggio, finita questa attività, inizieremo una ricostruzione millimetrica di quello che è accaduto e sinceramente tutti quelli che sono gli elementi che sono stati messi fino ad oggi sul tavolo come teoricamente accusatori nei loro confronti non ne sta in piedi uno. Quindi avremo modo e tempo di chiarire ogni aspetto.